musica gentili signore, gentili signori, cari amici romani buonasera, benvenuti al Golden Circus Festival qui al tentastrisce signore, signori, buon divertimento musica 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 attenzione flick-flack a tempo con cavallo in movimento flick-flack bravo sasha musica musica eccezionale salto mortale attraverso il cerchio bravo bravo attenzione musica musica e signori, questo succede anche in uno spettacolo televisivo purtroppo ma non credo sia successo nulla di grave è vero signor 운동 su su gli islamovi salti mortali da cavallo a cavallo bravo a tempo dal secondo al terzo ora perfetto gli islamovi ora entrerà in pista Edith Slavovi la più piccola il cucciolo della famiglia dieci anni e già una grande cavallerizza colonna in terza bravo sopra i cavalli in movimento Edith Slavovi grazie a tutti grazie a tutti signori ci apprestiamo a vedere un esercizio unico al mondo salto mortale dalla seconda colonna in panchina al terzo cavallo in movimento attenzione unico al mondo bravo gli islamovi bravissimi gli islamovi del circo di stato di Sofia gli islamovi gli islamovi ci lasciano con la loro bandiera a tempo di musica battiamo le mani a questi stupendi acrobati dal circo di stato di Sofia dal circo di stato di Sofia gli islamovi grazie a tutti Grazie a tutti.